ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale io sono Giorred e oggi parliamo di amici 20 ospiti Pio e Amedeo vediamo è andata in onda la prima puntata del serale di amici 20 programma condotto da Maria De Filippi su canale 5 e uno degli ospiti speciali di questa prima puntata sono stati duo comico Pio e Amedeo ed è stato un momento davvero divertente come prima cosa Pio e Amedeo ad amici hanno cercato di abbracciare Maria De Filippi la conduttrice ha iniziato a correre per lo studio gridando non si può la De Filippi poi ha anche provato di allontanarsi dallo studio di amici 20 ma senza risultati i due comici hanno bloccato la conduttrice e hanno iniziato a bracciarla e sbacciucchiarla e come giustificazione Pio e Amedeo hanno detto che Maria gli aveva fatto fare mille tamponi di tutti i tipi poi Pio e Amedeo hanno preso di mira uno dei tre giudici ovvero Stefano De Martino i due hanno iniziato a congratularsi con De Martino per l'imminente nuova paternità ovviamente la nuova gravidanza di Belen Rodriguez non riguarda Stefano che in forte imbarazzo non sapeva se ridere o no A non eri tu in foto hanno detto i due comici alla De Filippi che ha provato a solvare la situazione E che Belen se li prende tutti uguali hanno concluso poi i comici Anche Stache è stato preso di mira dal duo comico Prima i due hanno ironizzato sul talento di Stache poi hanno ricordato che Stache è diventato papà e hanno chiesto se avesse già fatto il battesimo alla bimba E poi hanno chiesto se Maria De Filippi sarà la madrina e Stache ha risposto di sì Sei proprio un lecca culo hanno concluso i due comici Inoltre nella puntata di amici il duo comico ha annunciato che il 16 aprile andrà in onda il loro primo programma su canale 5 E ci sarà anche Maria De Filippi E voi? Avete visto P.O.M. e Deo ad amici? Scrivete nei commenti e ditemi la vostra Per il momento ho concluso il video se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news Un grosso abbraccio da Joe Red Ciao! 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 Ciao!